Il trasporto delle merci sta cambiando e con esso le vie che vengono utilizzate, le autostrade del mare, le navi più capienti, il raddoppio dei canali di Suez, sono alcune delle evoluzioni in atto. Secondo lei ce la faremo a creare un sistema portuale dell'Alto Adriatico per queste nuove sfide? Più che se ce la faremo è che dobbiamo farcela, perché noi abbiamo il dovere di provarci, perché siamo, per nostra fortuna, nel posto giusto in questo momento. Perché sulla rotta più importante del mondo, che è quella che va dall'estremo oriente al cuore dell'Europa, la strada più corta passa via Suez e via Alto Adriatico, quella più, geograficamente più corta. Oggi non è quella economicamente più vantaggiosa, per una serie di difficoltà, che ha anche a vedere con il fatto che i nostri impianti portuali sono buoni ma vecchi, il nostro ha soltanto 13 secoli, insomma, che è sempre aggiornato e così via, ma adesso al di là di questo, ha 100 anni come impianto tale, e tutto il sistema non ha finora la capacità di servire le quantità che sono diventate enormemente più elevate di un tempo, che servono, di cui l'Europa ha bisogno e che potrebbero passare per di qua. Vedendo insieme i cinque porti dell'Alto Adriatico, che sono i tre italiani, di Ravenna, di Venezia, di Trieste, quello sloveno di Copper e quello croato di Rieca, o di Capodestri del Fiume, come anche noi li chiamiamo, questi cinque porti insieme danno quella dimensione di scala che serve per convincere anche le grandi navi che vale la pena di infilarsi nell'Alto Adriatico e per scaricare le loro merci che vanno al centro d'Europa, anziché, come fanno oggi, fermarsi a Suez o a Malta o a Gioia Tauro per mandarsi delle navette piccole mentre loro proseguono, escono da Gimilterra e rientrano dal Mar del Nord, da dove mandano per treno, per camion, in qualche altra maniera, le merci di nuovo da noi. Oggi capita che un container che deve andare all'Estramo Oriente da Conegliano passi per Anversa o che viceversa una merce che deve arrivare da Shanghai per Milano faccia il giro per Rotterdam. È evidente che noi dobbiamo creare le condizioni perché l'economia raggiunga la geografia. Ascolta, lei ha parlato di merci e quindi anche di container e camion. Verrà a breve inaugurata l'arrivo qui dell'autostrada del mare nel porto di Venezia. Secondo lei sarà competitivo per quanto riguarda la velocità commerciale? Allora, quello che noi facciamo è il termine per l'autostrada del mare, cioè noi creiamo uno spazio di qualche decina di ettari, sono quasi 35-36 ettari, quindi non uno spazio irrilevante, che è alle spalle di quattro accosti. Noi potremmo ricevere fino a quattro navi, ro-ro, come si dicono le navi che nella loro pancia hanno i camion o i semi di morchio, o i trailer, o quello che poi viene girato. e dietro, utilizzando vecchie infrastrutture, delle vecchie fabbriche che stavano precedentemente, semplicemente una ferrovia o una strada, noi saremo in grado di far sì che tutto venga scaricato rapidamente e o per strada o per ferrovia possa inoltrato in un ampio... quindi la funzione del nodo portuale sarà onestamente, credo, tra le più efficienti del nostro paese. Ovviamente questo vale se, come dice lei, l'arco marino è altrettanto interessante. Ci sono alcuni altri marini che sono ovvi, andare in Grecia, andare in Albania, andare in Egitto, andare in Islaele, andare in Libia e così via, è ovvio che non si può andare solo in questo modo, non ci sono alternative. Fare il resto, il pezzo di taglia invece, andare fino a Bari o a Brindisi, la concorrenza normalmente viene regolata nel prezzo della benzina, del diesel, se il prezzo è elevato si mettono le navi in... o addirittura i camion salgono in nave, se il prezzo è basso il camion preferisce fare la strada, quindi non dipende solo da noi. Di sicuro è che l'infrastruttura che noi mettiamo a disposizione è la più efficiente, e quella che rende efficiente il momento di passaggio tra il mare e la terra. Quali vantaggi alla fine porterà il progetto che avete in campo per il port offshore? Il port offshore ha una gamma di motivazioni, due secondo me sono importanti, una che è locale ed è che è evidente che non avremmo potuto per il discorso di prima aumentare le dimensioni che sono necessarie per essere utili sui mercati europei dentro la laguna, perché avremmo dovuto alterare o cominciare a mettere mano a parti della laguna approfondendo i canali e imponendo aree barene incompatibili con il concetto che abbiamo di salvaguardia, di preservazione, di intelligente preservazione di un ambiente irripetibile come questa e quindi non potendo espandere il porto dentro la laguna lo espandiamo fuori perché fuori creiamo un punto in cui possiamo arrivare anche a affondarli da 20 metri e quindi poter essere forse uno di pochissimi porti in Italia che può accogliere le navi non di oggi ma addirittura di domani, cosa che è poco comune in questo momento. Il secondo fatto è che così facendo noi contribuiamo insieme agli altri porti del Toto Adriatico a arrivare a quel volume di scala che è necessario per diventare competitivi rispetto ai porti del Mar del Nord ma il terzo è che noi in questo modo mettiamo in valore gran parte delle aree di Marghera che recuperiamo che facciamo partire il sistema fluviale che parte da qua e che poi risale un po' almeno fino a Mantua insomma noi mettiamo insieme un insieme di obiettivi che si concentrano tutti col fatto che abbiamo un punto in cui possono arrivare le navi di domani per seguire i traffici sui canali finalmente resi efficienti che è l'unico pezzo di idrovia che c'è in Italia che noi possiamo gestire da qua che recupera aree che altrimenti sono abbandonate e che consente di contemporaneamente di salvaguardare la Laguna di Venezia. grazie a tutti grazie a tutti